Buongiorno a tutti, adesso vediamo un po' un'altra ricetta molto bella e molto buona soprattutto che è quella del vitello tonnato. Il vitello tonnato ovviamente sappiamo che è un piatto di origine piemontese che è entrato a far parte diciamo di tutti i classici della nostra bellissima Italia ed è un piatto tipico delle prossime feste natalizie ed è un ottimo antipasto o comunque anche un secondo piatto che può essere utilizzato poi anche durante la stagione estiva quindi è una ricetta diciamo che è leggera ma nello stesso tempo è nutriente e va servita ovviamente fredda e quindi per questo motivo noi la possiamo preparare in anticipo, la possiamo conservare in frigorifero fino a quando poi l'andremo a servire ai nostri ospiti. Ovviamente vi do sempre gli ingredienti per quattro persone e sono 800 grammi di magatello di vitello, 300 grammi di tonno, 6 filetti di alici sott'olio, 25 grammi di capperi, se abbiamo quelli di pantelleria, i gp ovviamente ancora meglio, 2 uova sode, un mezzo litro di vino bianco secco, 2 foglie di alloro, 2 foglie di salvia, un gambo di sedano, una cipolla e una carota, olio extravergine di oliva quanto basta e brodo o acqua quanto basta. Qual è il procedimento per il vitello tonnato? Allora innanzitutto dobbiamo prima di tutto sminuzzare molto finemente il sedano, la carota e la cipolla. Le andiamo a mettere in una casseruola abbastanza ampia e ci mettiamo dell'olio extravergine di oliva. Facciamo soffriggere il tutto per qualche minuto e aggiungiamo poi man mano le foglie di alloro, le foglie di salvia, un mestolo di brodo o di acqua, il vino secco, vino bianco secco e facciamo appassire il tutto per qualche minuto. A questo punto potremo aggiungere la carne e il magatello di vitello che faremo scottare bene bene da un lato su ogni lato e la bagneremo poi con un altro po' di brodo o acqua e proseguiamo la cottura per 2-3 ore a seconda della grandezza del pezzo della carne. In questo caso il nostro magatello ha un peso di 800 grammi. Continuiamo sempre a bagnare di tanto in tanto con il brodo o con l'acqua, se vediamo che si asciuga e a termine della cottura noi faremo raffreddare la carne e ci andremo a dedicare alla salsa. Quindi nel bicchiere di un frullatore mettiamo le due uova sode, le alici, i capperi, una parte dei capperi che andiamo però precedentemente dissalato, mettiamo il tonno e frulliamo a una velocità media per circa 40 secondi con ovviamente l'olio che andremo a inserire a filo. Mi raccomando. Successivamente potremo tagliare la carne a fettine sottili con un coltello che sia ben affilato e poi potremo servire quindi la carne con la salsa tonnata e aggiungere qualche altro cappero intero di salato che ci è avanzato. Buon pranzo a tutti!